Commerciavano droga in arrivo prevalentemente dalla Spagna. La guardia di finanza di Malpensa ha arrestato due uomini ed è alla ricerca di altri tre sempre destinati al carcere, nell'ambito di una complessa indagine. Le fiamme gialle hanno ricostruito spedizioni per circa 700 chili di droga. Torna la neve in provincia di Varese. I primi fiocchi dovrebbero iniziare a cadere nella serata di oggi. Le nevicate saranno intense domani mattina e proseguiranno fino al pomeriggio. La provincia di Varese ha attivato il piano antineve e il sindaco di Luino, Pellicini, ha disposto la chiusura delle scuole proprio a causa delle forti nevicate previste. Il 2018 chiude in negativo, ottengono meccaniche gomma plastica, in aumento l'occupazione di giovani e donne nelle piccole e medie imprese, ma cala la fiducia e quanto emerge dai dati diffusi da Confartigianato. Nella pagina culturale il corso per aspiranti iscrittori in partenza a Busto Arsizio, ma anche la rassegna culturale, rigorosamente in rosa, presentata a Varese e che vedrà susseguirsi in città numerose ospiti di rilievo nazionale. Nello sport il basket con la sconfitta del Varese contro Sassari, ma anche il volley con la vittoria della UIVA con Chieri. Buonasera, benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale. Iniziamo parlando di maltempo e di neve. Torna infatti la neve in provincia di Varese. I primi fiocchi dovrebbero iniziare a cadere proprio in questa serata. Le nevicate saranno intense domani mattina e proseguiranno fino al pomeriggio. Intanto la provincia attiva il piano antineve che prevede che su tutti i 630 chilometri di rete stradale di competenza siano effettuate operazioni di salatura preventiva a partire dalle prime ore della notte e che domattina avvenga l'attivazione dei mezzi dotati di lame per lo sgombero della neve. A Varese, oltretutto, tutti i 45 mezzi saranno operativi già a partire dalle 3.30 di questa notte. Autocarri e trattori con lame e sabbiatori rimarranno in azione fino alla fine delle precipitazioni nevose. Particolare attenzione sarà dedicata alle zone degli ospedali, delle scuole e alle fermate degli autobus. Il sindaco di Luino Pellicini ha disposto la chiusura delle scuole proprio a causa delle forti nevicate previste. Anche altri comuni della zona hanno emesso delle ordinanze di questo tipo. Cambiamo ora completamente argomento e passiamo alla cronaca che ci porta a Malpensa. Commerciavano droga in arrivo prevalentemente dalla Spagna. Appunto a sgominare la banda è stata la Guardia di Finanza di Malpensa. Vediamo i dettagli nel servizio. Commerciavano droga in arrivo prevalentemente dalla Spagna. La Guardia di Finanza di Malpensa ha arrestato due uomini ed è alla ricerca di altri tre sempre destinati al carcere, nell'ambito di una complessa indagine che ha permesso di sgominare un'associazione a delinquere per traffico internazionale di stupefacenti. Le fiamme gialle hanno ricostruito spedizioni per circa 700 chili di droga. L'operazione denominata Pacchete Espresso, spedizione espressa in lingua spagnola, è iniziata a settembre 2017 quando i cani antivaluta e antidroga del gruppo Malpensa hanno sottoposto a controllo un uomo in arrivo da Barcellona trovato in possesso di somme di denaro e di ricevute di spedizioni indirizzate a una persona inesistente. Quei pacchi immediatamente controllati contenevano circa 40 chili di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno svelato l'esistenza di un pericoloso sodalizio criminale composto da cittadini italiani e stranieri, con basi logistiche nelle province di Varese e Milano, in grado di importare ingenti quantità di droga, contrabbandate attraverso spedizioni di merci o tramite corrieri espressi. La droga veniva poi commercializzata nelle province di Como, Varese, Milano, Monza Brianza, Bologna e Vicenza, impartite attraverso apposite reti di spaccio sul territorio. In tutto sono state ricostruite spedizioni per circa 700 chili di droga, sequestrati 120 chili di marihuana, 80 chili di hashish e rinvenuti 130 mila euro a seguito di controlli valutari. Attualmente è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini italiani, mentre gli altri tre destinatari, due italiani e un venezuelano, sono attualmente ricercati in territorio estero. E passiamo ora all'economia. Il 2018 chiude in negativo, tengono meccanica e gomma plastica, in aumento l'occupazione per giovani e donne, quanto emerge dai dati diffusi da confartigianato, imprese Varese. La meccanica di produzione rimane il settore trainante dell'economia in provincia di Varese. Segue sempre in sofferenza l'edilizia, non si arresta la crescita dei servizi alla persona e alle imprese. Ai vertici si consolida il comparto della chimica, gomma e plastica. Flessione per il tessile abbigliamento che continua l'inarrestabile fase discendente, il tutto in un quadro di persistente debolezza del mercato, con la domanda interna che stenta a recuperare ossigeno, il progressivo rallentamento della crescita e la flessione occupazionale dell'1,6%. È il ritratto a tinte forti, condizionato dal rigurgito della congiuntura negativa e dal tasso decrescente della fiducia delle imprese, delineato dall'Osservatorio per il mercato del lavoro di Confartigianato a termine del 2018. C'è un sospetto inizio di crisi. A cosa è dovuto? Beh, non soltanto e sicuramente sarebbe ingiusto dire a quanto avvenuto a livello politico in Italia. È una crisi congiunturale dovuta a quanto sta avvenendo nel mondo. Quindi parliamo dei dazi che Trump ha messo e quindi della crisi poi della Cina e dei rapporti della Cina con gli Stati Uniti e di conseguenza i danni che si sono creati all'economia europea e quindi qui si sta creando oggi un clima di incertezza. Dati alla mano aumentano le imprese di dimensione superiore ai quattro dipendenti e diminuiscono le forme giuridiche ad alta responsabilità per l'imprenditore. La classe dimensionale delle aziende sta andando ad aumentare. Difatti abbiamo dei decrementi per le aziende che hanno fino a quattro collaboratori, invece abbiamo percentuali oltre il 3% per le aziende invece più strutturate, quindi che hanno più di quattro dipendenti. Allo stesso modo, come nel concetto precedente, molte aziende si stanno trasformando in forme giuridiche dove vi è maggiore patrimonializzazione e anche e soprattutto meno responsabilità patrimoniale da parte dell'imprenditore. Come dicevamo, cala nel complesso l'occupazione. A dicembre del 2018 rispetto al dicembre del 2017 abbiamo avuto un calo occupazionale dell'1,6%. A giugno 2018 eravamo lo 0,5%. Altro elemento di rilievo è l'aumento dell'occupazione femminile che nel corso dell'ultimo anno ha segnato un più 2,52%. Stabile e bassa invece l'occupazione degli stranieri. Siamo arrivati al 13,10% della presenza di lavoratori extracomunitari, lavoratori stranieri nella nostra provincia. L'anno scorso, a dicembre 2017, eravamo al 13,05%. Quindi c'è veramente uno spostamento, non c'è alcuno spostamento. Quindi si conferma il dato detenziale degli ultimi tre anni dove non c'è stato veramente l'incremento nelle nostre aziende della presenza di lavoratori stranieri. Da segnalare infine la stabilizzazione dei contratti trainati dall'entrata in vigore del cosiddetto decreto dignità. Purtroppo, prosegue Di Martino, le persone dai 26 ai 45 anni sono quelle che fanno più fatica a trovare lavoro, a differenza dei giovanissimi e degli ultracinquantenni, questi ultimi spesso richiesti per le loro competenze acquisite negli anni. I lavoratori dai 26 ai 45 anni non hanno goduto della ripresa del 2015 e del 2016, quindi stanno calando nelle nostre aziende. Viene confermato, viceversa, il dato relativo ai lavoratori che hanno più di 55 anni con un aumento superiore al 3%, conferma che le nostre imprese si tengono stretti i lavoratori con professionalità alte e con alte competenze. E continuiamo a parlare di economia, ma ci spostiamo a gallarate, sconti e promozioni per i dipendenti comunali e per le loro famiglie. Quando faranno acquisti nei negozi della città? Un ulteriore passo, dice l'assessore alla partita Claudia Mazzetti, per promuovere il rilancio del commercio cittadino. E rimaniamo dunque a gallarate, ma cambiamo argomento, torniamo a parlare per l'ennesima volta dei sinti. Arriva oggi la replica dell'opposizione dopo la notizia dell'assegnazione di 5 alloggi temporanei alle famiglie sfrattate e che vivono situazioni di alta fragilità. Dopo aver ripetuto che nessuna casa sarebbe andata alle famiglie sgomberate da via Lazzaretto, dicono da liberi uguali, il sindaco si piega alla realtà e alla legge, riconoscendo tra l'altro la falsità delle sue dichiarazioni che indicavano i sinti come dei ricconi con ville e jacuzzi, famiglia a cui ora viene riconosciuto un reale stato di bisogno. E ora ci spostiamo da Gallarate e andiamo a Somma Lombardo, incontri dedicati al tema della salute e della buona alimentazione. Si parte proprio questa sera. A Somma Lombardo si parla di salute, lo si fa appuntando ai riflettori sulla sana alimentazione, quella che predilige alimenti ricchi di vitamine e poco grassi. La serata, organizzata grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e SPES, è in programma il 31 gennaio nella sala polivalente della biblioteca ed è a ingresso libero. Un appuntamento importante nella sala polivalente della biblioteca di Somma Lombardo perché ci sarà ospite la dottoressa Villarini dell'Istituto dei Tumori, famosa perché partecipa a tantissime trasmissioni televisive e parlerà del cibo, cosa mangiare per prevenire il tumore perché è fondamentale, è ormai scientificamente provato che alcuni alimenti fanno veramente male rispetto ad altri e nella prevenzione è fondamentale. Questo incontro non è che il primo di molti altri, tutti dedicati alla salute. Nel mese di febbraio ci sarà una ragazza che ha scritto anche due libri, che mi seguita una pastiglia di estasi, stava morendo, ha dovuto fare anche un trappianto di fegato e gira l'Italia raccontando la sua storia, soprattutto ai ragazzi. Poi ci sarà un'iniziativa a marzo sulla prevenzione dell'ictus, poi ce ne sono tante altre che verranno avanti sul metabolismo, sugli esami diagnostici, sugli esami che si possono fare anche nelle nostre farmacie. E continuiamo ad occuparci di cibo ma torniamo a Varese per rappresentarvi il rimpiattino, ovvero la versione italiana della doggy bag. La lotta allo spreco passa dai ristoranti, anche da quelli varesini, 23 per l'esattezza. La doggy bag, ovvero la pratica confezione utilizzata per portare a casa ciò che si è ordinato a tavola ma che non si riesce più a mangiare, arriva in Italia con il nome di rimpiattino. Rimpiattino è un termine italiano, italianissimo perché si vuole tornare alla tradizione italiana. Quando la donna di casa a mezzogiorno preparava il pranzo per tutta la famiglia e alla sera rimpiattava quello che era avanzato durante il pranzo per poter preparare una nuova cena. Il cartoncino riciclabile al 100% e disegnato dal designer Giulio Iacchetti arriva dunque in città grazie alla collaborazione tra Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Carta e Cartone e Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Prezioso anche il ruolo dell'amministrazione comunale che potrebbe applicare uno sconto sulla Tari, la tassa sui rifiuti, a quei ristoranti che propongono ai loro clienti il rimpiattino contribuendo a ridurre lo spreco. Varese è tra le prime città d'Italia a introdurre questa pratica che si spera possa presto diffondersi. Questa campagna è proprio fatta per far capire che si può andare al ristorante, mangiare bene e quello che non si riesce a mangiare perché magari si è sovraordinato il cibo eccetera si può portare a casa, non solo il cibo ma anche il vino. Varese è secondo Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, una delle città più virtuose d'Italia, a dimostrarlo gli importanti risultati raggiunti nel riciclo della carta e del cartone. Varese è un'eccellenza, non solo lombarda tra i capoluoghi ma nazionale, siamo intorno a ormai 70 kg per abitante, quindi un risultato notevolissimo. Se poi aggiungiamo questa sensibilità sul tema della lotta allo spreco, credo che Varese abbia delle ottime carte da giocare, non solo lombarde ma nazionali, quindi secondo me potrebbe essere molto utile che proprio da Varese parta un osservatorio antispreco perché si potrebbero mettere assieme queste diverse esperienze e poi indicare delle linee, delle buone pratiche che credo possono essere prese a riferimento da molti amministratori. E ora Busto Arsizio per la Gioibbia, questa mattina le prime fiamme alla Provvidenza. È un piacere dare il via alla prima Gioibbia della città del 2019 come assessore alle identità qui alla Provvidenza dove tra l'altro il 2019 sarà un anno speciale perché è l'anno del 140esimo anniversario di questo istituto. Cominciarlo con un rito propiziatorio che vede la vecchia, arrogo che rappresenta l'inverno, le malattie, la carestia come atto per aprirsi alla nuova stagione, alla grande fortuna che speriamo porterà, trovo che anche simbolicamente per l'istituto sia un momento davvero importante. È il giorno della Gioibbia, è il giorno delle tradizioni, è il giorno in cui Busto Arsizio si scalda con le fiamme che bruciano vecchi vestiti, scacciano malanni o cattive abitudini. Io spero proprio che il fuoco che si svilupperà possa allontanare per sempre gli eventuali malanni che possono colpire la Provvidenza e soprattutto portare serenità ai nostri ospiti. L'istituto La Provvidenza insieme ai suoi ospiti ha scelto di rappresentare la vecchina per la Gioibbia su un monopattino contro l'inquinamento ambientale. Il motto che brucia con la nostra Gioibbia nella speranza quindi di salvaguardare il nostro ambiente è scritto in bustocco, eccolo, do la parola a Monsignore nella lettura del nostro motto. Credo che questa Gioibbia ha un primato, non avrà spettatori dell'età dei nostri ospiti, c'è una spettatrice di 103 anni che vede bruciare la Gioibbia. Viaggiando in monopattine non crea l'inquinamento che creano tutti gli altri elementi che ho citato. L'asse del Sempione è la malpensa, peggio di così non si può. E sempre a Busto Arsizio arriva allo spazio arte Carlo Farioli un corso per aspiranti scrittori. Vediamo insieme di cosa si tratta. L'ultima notizia riguardo alla lingua italiana che poi si è rivelata essere una fake news ha interessato niente meno che l'Accademia della Crusca con la querela su esci il cane e siedi il bambino. Poi si è rivelata appunto in realtà essere falsa in quanto l'autore della spiegazione voleva soltanto dire che nella parlata dialettale al sud è possibile usarlo ma lo scritto a sottolineato della Crusca rimane diverso e deve essere corretto. Ecco, come si fa a scrivere in maniera moderna da un lato ma corretta dall'altro? È chiaro che nella vulgata del sud, di alcune parti del sud alcuni verbi scendi la valigia io l'ho sempre sentito dire da un'amica che tra l'altro era laureata quindi diverso l'ho scritto ecco, l'ho scritto per esempio visto questo è un corso di scrittura creativa se io sto scrivendo un dialogo e il mio protagonista è di Napoli io posso tranquillamente, anzi devo fargli dire scendi la valigia per renderlo credibile, per renderlo vero quindi diciamo che le regole esistono esistono per essere rispettate e per essere qualche volta infrante quando il caso lo richiede ecco, quindi è giusto prendersi qualche licenza perché poi se no la lingua non si evolve e rimane sempre uguale Il commissario Molta al Bari insegna? Faletti è andato a Sanremo con la canzone Minchia signor tenente che iniziava con Minchia signor tenente ed è Andrea e Tenti, vi ricordo, disse la più bella canzone che ho sentito a Sanremo quindi e Faletti non è certo del sud Dopo l'appuntamento introduttivo il corso di scrittura creativa entrerà nel vivo nessun obbligo di iscrizione basta prenotarsi a ogni singola lezione in calendario il martedì alle 18 e alle 21 allo Spazio Arte Carlo Farioli in via Pellico a Bustarsizio per imparare innanzitutto che cosa non fare per scrivere un buon libro quindi queste sono le cose insomma un po' come la scrittura dico sempre un po' come la seduzione quindi l'uomo non dovrebbe farsi vedere mutande con i calzini perché se no si è già giocato buona parte della sua credibilità quindi presentarsi bene quindi evitare gli errori prima di tutto evitare che poi sono errori molto comuni e non sono tanto riguardo appunto tornando ad esempio tra i verbi transitivi e intransitivi gli errori comuni uno di questi è proprio lo spiegone per sapere di cosa parliamo uno si informa e l'interno viene a trovarci nei nostri corsi e glielo diciamo una rassegna culturale tutta al femminile quella presentata questa mattina a Varese che prenderà il via al Teatro Santuccio della città parola di donna prende il via al Teatro Santuccio di Varese la rassegna al femminile dove teatro, musica e letteratura si fondono si parte il 9 febbraio e si prosegue fino al 24 maggio con il susseguirsi di ospiti di rilievo del panorama artistico e culturale italiano obiettivo tenere accesi i riflettori su tematiche che vedono la donna al centro dunque la famiglia, l'amore, il sociale la nostra amministrazione ha molto lavorato e molto sta lavorando sulla parità di genere sul combattere lo stereotipo e questa ci sembra veramente una buona via che possa arrivare al cuore e alla mente di tutti i cittadini la donna ha ancora tante fragilità e tante opportunità e diritti da confermare da riaffermare nonostante le conquiste che ha ottenuto con grandi lotte questa rassegna sarà l'insegna comunque del spirito positivo, gioioso perché pensiamo che si possa invitare a riflettere e ad una riflessione anche comune concreta e profonda anche con spettacoli di questo livello ed infine un'anticipazione della nuova puntata di Amico Cane che accende i riflettori sull'importanza dell'educatore cinofilo Eccoci con Irene, quanto è importante innanzitutto scegliere un educatore competente che possa aiutare veramente una proprietaria con il suo cane? Allora l'importanza è fondamentale perché comunque in questo lavoro che tanti prendono sotto gamba bisogna essere competenti bisogna avere le capacità bisogna aver studiato bisogna conoscere perfettamente i cani bisogna trovare il canale comunicativo corretto anche con i proprietari perché poi alla fine lavorano loro purtroppo ancora al giorno d'oggi ci sono tanti che si spacciano per educatori non lo sono completamente o comunque appena usciti dalle scuole non tutti hanno ancora le competenze quindi bisogna anche essere in grado se mi arriva un cane che può avere qualche difficoltà maggiore e che io non so gestire devo avere il rispetto nei confronti dei proprietari di dire non sono in grado ti mando da chi è più bravo di me innanzitutto ci faccio più bella figura e comunque aiuto molto di più il cane un consiglio su come riconoscere le persone che hanno delle certificazioni e qualificazioni? io consiglio sempre lo dico sempre anche ai clienti nuovi di chiedere il curriculum più fede di quello nel senso chiedere il curriculum chiedere che scuole uno ha fatto dove ha studiato i percorsi che ha fatto risultati se ha avuto risultati perché insegna anche le discipline sportive se ci sono le specializzazioni e quant'altro proprio perché appunto non sempre uno è in grado di aiutare il cane che si trova di fronte se ho un cane come in questo caso Emily che può avere qualche difficoltà in più se non ho esperienza se non sono un bravo educatore un rieducatore è ovvio che concludo poco rischio di fare più danno quindi il curriculum sicuramente chiederlo o comunque chiedere effettivamente gli studi fatti e da quanto tempo anche una persona esercita la professione quello sicuramente A tutti buonasera dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori domani coperto nevicate diffuse su tutta la regione fino a sera nella notte poi nevicate sopra i 500 metri e piogge sulla fascia di pianura temperature massime previste tra 2 e 4 gradi Con la prima parte del nostro TG abbiamo terminato ora le sigle poi subito la pagina sportiva tra poco Il nostro corso Goggio allora sono il nostro corso me assa Grazie a tutti.